Il polo scolastico a Castellabate sarà realtà, infatti il 27 dicembre si è conclusa la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo polo scolastico sportivo che verrà realizzato nella frazione di Santa Maria in via Palatucci. La gara d'appalto è stata giudicata dalla RTI Scermino Costruzioni SRL, una ditta del Salernitano, concludendo così una procedura che era stata avviata nel 2015 e che era arrivata ad una svolta solo nel 2018 grazie al finanziamento del MIUR e per la quale non sono mancate polemiche. Il contratto firmato con la ditta di costruzioni è di circa 2.700.000 euro. Il polo accoglierà in un'unica sede scuola materna, primaria e secondaria e nella struttura saranno presenti anche la mensa, un palazzetto dello sport e degli spazi verdi per i bambini. Soddisfatta l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Costabile Spinelli che ha annunciato che per il prossimo mese di febbraio potrebbero avere inizio i lavori e ha definito il polo come un'opera strategica attesa e importantissima per la comunità.